Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti finalmente in un nuovissimo video della Big Vanilla Il mondo con tutti gli youtubers Mi deve interrompere sempre Mi ha dato fuoco, mi ha dato Marci, bella faccia, che cavolo stai facendo? Mi ha dato fuoco da solo, te lo giuro Tu non mi ripendi, Marci Vediamo, vediamo, bella faccia un po' sospetto in effetti No, no, cos'è l'interrogatorio? Lui lo farebbe questa cosa Comunque, ragazzi, ho trovato una sorpresa all'interno di casa mia C'è scritto, questo regalo me l'hanno deciso i miei fan Guardate qua, protezione 3 in diamante Protezione 3 Forse l'avrei dovuto prendere un po' prima, visto che sono morto nel nether per colpa di questi due Io vorrei farvi notare una cosa, che i regali ve li hanno fatti tutti e a me non mi ha regalato niente nessuno No, poverino Aspetta, bella faccia, in realtà qualcuno ti ha regalato qualcosa Però io volevo sapere una cosa, prima di dirtelo Cosa? Tu ti stai trasferendo là, giusto? No, quella è la mia casa delle vacanze Ah, quindi questa resta la tua casa? Dai, va bene, vuoi saperlo? Cosa? Glielo diciamo, Marci? Diciamo, glielo diciamo Che cosa? Allora, io mi sono spostato, però restiamo sempre vicini, faremo un regno vicino, eccetera, eccetera Però io ti regalo la mia torre Ok, grazie mille, allora bella faccia qualcuno te l'aveva fatto un regalo, però visto che questa torre è mia, adesso questo regalo è mio Grazie, 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 grazie mille Guarda quella raffola Grazie, grazie No, però te la regalo, però ovviamente resterà un po' mio Sì, 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 puoi venire quando vuoi, facciamo delle feste e cose varie Tra l'altro io volevo creare un passaggio segreto proprio qua sotto, guarda Entrate? Venite a casa mia Aprite il frigo Il frigo? Aprite il frigo Ma vabbè, ma questa lo fa, ma vabbè, ma l'ho fatta io Bella faccia, non prenderti i meriti che non hai Ma vabbè, chi l'ha fatto dei due davvero? L'ho fatta io, l'ho fatta io Secondo te chi l'ha fatta, Marzi, dai Bravo, Kendall, sei stato molto bravo, mi piace Grazie, oh, non mi chiudete la porta in faccia Comunque, fermi tutti, allora, io avevo 30 livelli, però per colpa vostra, poco fa, sono morto nel nether No, 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 abbiamo ripagato, mi sembra Sì, ok, avete ripagato, però adesso mi serve un piccolo favore Ok Io vi do una name tag Ok E basta E voi la dovete rinominare colui che parla, perché un iscritto ha deciso di chiamare il papagallo colui che parla Ok, dai, faccio io, faccio io, colpa mia Tanto, gli avevo già regalato 9 blocchi d'oro, ma non basta Quali blocchi d'oro? Io non so di cosa tu stia parlando Com'è che devo chiamarlo Nappo? Colui che parla, però aspetta, con la C maiuscola Colui, C maiuscola, capito? Mi raccomando, adesso te l'ho fatto tutto a minuscolo No, ti prego, deve essere La A, la A metto il 4, vero? No, 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 ve la faccio Colui che parla col 4 No, giusto No, cosa? No, non glielo dare, non glielo dare Prima non me lo metto, aspetta No, no, ragazzi, dai, questo è bullismo No, Marce No, non glielo possiamo dare No, dammelo, dammelo Ragazzi, dai Dai, no, la voglio io Con lui che parla, ok Che paura Ma questo cartello chi l'ha scritto? So quello che hai fatto al mio amico, guardati le spalle Oh, oh mio Dio No, 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 io me ne vado È una provocazione questa È una provocazione Credo di aver capito chi l'ha messo Incendiamo casa Chi, quale animale, quale animale ho ucciso io in questa serie? Eh, un sacco di animali Un asino, un cavallo, un pollo Il maiale di Marcia Ragazzi, allora, quali animali Ti è stato tu a uccidermi il maiale? No, no, non è vero Ti ricordi del primo episodio? Ha tirato un pugno al maiale e l'ha ucciso Forse, forse è vero L'importante è che non ha ucciso la pecora rosa Che quella è rarissima Esatto, bravo Io ucciderei il suo pappagallo Con lui che parla Così siamo bad Io ho ucciso il pappagallo di Buddy E ho ucciso No, vabbè Per sbaglio, per sbaglio No, vabbè, dai E ho ucciso Sei un killer È l'asinello di Kenoya Quindi uno di loro dove potrebbe aver scritto questo cartello? Si pensiamo noi Dobbiamo investigare, ragazzi Facciamo un cartello e minacciamoli Ma come? Sì, sì, sì Entriamo in guerra, quindi? Loro si permettono di mandare dei messaggi del genere a casa mia? Ora ci penso io Che guerra sia, guerra sia Seguitemi Ti metti in mezzo anche a noi, Marti Seguitemi, ho detto Voi siete o non siete i miei amici? Io sono un po' imparziare, realtà Andiamo Dobbiamo lasciare un messaggio Ok A Kenoya Però ti firmi te, io non c'entro No, no, ha firmato tutto No, no Lei ha detto che è la regina dei mari, Kendall Te lo dico La regina dei mari Dei mari o dei mari? Dei mari Ho una barca, ragazzi Ma cosa? Ma porca mia Ma si fa prima così Sì, si fatti Tanto io poi ruberò la barca di Kenoya Visto che lei mi lascia questi messaggi cattivi Ok, siamo in guerra, allora Siamo in guerra Cannone di TNT davanti a casa di Kenoya Bellissimo, si facciamolo Adesso Oh, guarda chi c'è qua Chi sei? No No Vabbè, sei tornato in vita, Nello Lasinello Poi non era, non era lui Ma allora non era morto No, non era morto E chi ho ucciso io? E infatti allora È Buddy allora che ha lasciato quel cartello È Buddy? È Buddy Questo cartello l'ha lasciato Buddy Andiamo da Buddy No, aspetta Mettigli un cartello però che annoia Eh, che cosa ne scriviamo? Tipo, siamo pari Ma se facessimo così, guarda Guarda No, no, Marci Cosa fa? Lo vuoi rubare No, Marci Marci Non si può questa cosa Marci, entriamo in guerra Ok, io mi dissocio Ha fatto tutto lui No, no, no È nel tuo episodio Quindi ti stesso Ciao No Ok, se vuoi Allora lasci un messaggio Lasci un messaggio È stato Marci Ragazzi Se vuoi rivedere Il tuo amico Incontriamoci Sotto La torre Fermi, fermi, fermi Sotto la torre A A mezzanotte Ok Va bene, va bene Vai Se la fai Porta una valigia Andiamolo lì dentro Con cento diamanti Vai Marci Non entra Non entra Vai, va bene È così Va bene È così Ma che state facendo ragazzi No, io mi dissocio Comunque da tutta questa cosa Allora, dobbiamo portarlo in salvo Non può morire Nello Lasinello, ok? Ok, vai, vai, vai Andiamo Nello Andiamo Nello Non devi affogare Sapete dove lo possiamo mettere? Dove, dove, dove Sulla mia nuova torre Ok Ma come vai? In stavaniello Ci si ruba gli asini Non ho ancora capito Allora Lo prendiamo perché così Facciamo un trattato di pace Trattato di pace Se lei vuole la pace Mi dovrà dare cento diamanti No, se vuole la guerra Avrà la guerra Lo dico io Ovviamente ragazzi Stiamo scherzando Siamo amici, eh Non è vero Non siamo amici Come non è vero Andiamo Marci Comunque tutto il lavoro sporco Lo sta facendo lui Quindi la colpa è sua Ragazzi andiamo a rubare Anche il cavallo È il tuo episodio Oggi ho voglia di rubare I cavalli e gli asini Andiamo a rubare La faccia la devi smettere Andiamo a rubare Tutti gli animali Fate entrare qua Il cavallino Andiamo Nello Nello Ok, però è per casa tua Ma ci passa qua dentro Sì, sì Nello Nello Lo stai chiamando grasso? Nello Dai Nello Nello Spacchiamo dai Oh, ma è a casa mia Che spacchiamo? No, spacchiamo Vabbè Spacca Spacca tutto Vai Nello Vai Oh, no, no Non gli dare fuoco Ma sei matto Allora Adesso lo dobbiamo nascondere qua Aspetta Gli facciamo un recinto No, non posso rire Non posso rire Fermo, fermo Lascia un recinto Qui, qui, qui Metti qui Vai Mettilo qua dentro C'avete la corticella? No, si è persa Come si è persa? È rotta Ce l'ho io, ce l'ho io Esci, esci Penso io Ok Adesso è al sicuro Non è che andava da nessuna parte No, aspetti Diamogli un po' di cibo Perché non si sa mai Poverino Nello Sì, qui starà meglio Sicuro poi Se è più il cibo Infatti è più che la rosa 15 diamanti Cosa? Nella cassa c'erano 15 diamanti Di che noia Ma io ne avevo nascosti Che cosa no? No, no, no Non si può rubare Dai Gli abbiamo già rubato L'asinello per scherzo Lasciaroli così Lasciaroli, lasciaroli Ok Una cazza al tesoro Dai Sistemate di nuovo a casa mia Per favore Ok, ciao No, no, no Ragazzi Casa tua Ma è casa mia questa Ma Marzi Non gli hai detto che era uno scherzo? Infatti era uno scherzo Vuoi che ti regalo casa mia? Sarà pure uno scherzo Ok Adesso abbiamo colui che parla Perfetto E sapete cosa? Andiamo a rubare altri animali No, no, no Bella faccia Basta Ci hai preso gusto? Allora Io ho un libro con fortuna 3 Uh Ho bisogno di livelli Come posso fare dei livelli ragazzi? Lo chiedi a noi E te lo incantiamo noi Eh Ok Però mi serve anche un libro con efficienza Non posso fare soltanto Vabbè Intanto Mettiamo il fortuna all'interno di questo mendicare No Che cosa? Cosa sei? Ok Dobbiamo farmare ragazzi Dobbiamo uccidere Nello l'asinello No No Ma che cavolo No sto scherzando Nello non si può Nello non si può Nello No io ho una farm di pesca se vuoi dei livelli Dove? È a casa mia Andiamo Ho bisogno di 6 livelli per incantare il mio piccone Sì però non ce la fai perché avrai una canna da pesca ridicola Perché? Eh Ti serve una ford Ma io ho 5 livelli Ecco puoi regalarmela quindi Se vuoi Anche no No come? Tra l'altro guardate quanto è bello il nuovo portale del nether Anche no Io gli regalo una torre Anche no Chi lo sa Potresti ridarmi No No raga Questo è il bullismo Questo è il bullismo Ok Rompe le cose Le torri Dai arriviamo Arrivo a 6 livelli Ragazzi così metto il fortuna nel piccone con mending Poi devo mettere che ha rubato anche Nello Ha rubato Nello Gli regalo la torre L'avete rubato voi Nello Non io No no L'hai rubato Nello Sequestro gli asinello L'abbiamo presa in prestito Sì sì digliela che noia poi Voglio vedere se Ma che noia ci minazza Quindi mi sembra Sì è vero Ho detto guardati le spalle Ti minazza io non sento Guardati tu le spalle adesso che noia Che noia ci metterebbe poco con un azzarino Questo bel piccone Adesso lo trasformiamo in mending E fortuna 3 Guarda quanta roba che ha Adesso mi serve soltanto Efficienza 4 Indistruttibilità E poi è il piccone migliore del mondo Eh già Il mio fa schifo a confronto Me la faccia Che stai facendo? Niente Sarà meglio Per ora Allora mi cambio i piedini E poi andate via da casa mia per favore No Cioè Che cavolo Ok grazie Eh io mi devo cambiare per favore Via Mi devo spogliare Andiamo Mettiamo l'elmetto sacro Ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace se così è stato Che noia Vuoi rivedere il tuo asinello? Beh dovremmo fare la pace allora Da Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao